Sì, è il mio amico, è il mio amico, è il mio amico, è il mio amico. Sì, è il mio amico, 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 è il mio am Una pietà, è un poco caldo, è una pietà, è una pietà, è una pietà. Una pietà, la magia, in uno sguardo, mi dice solo, quindi emoziono tutte le volte che mi guardo. Ladies and gentlemen, per il banco di toni vi voglio carichi di come buon piede, Francisco Colibra di Economia di Adelago! Grazie a tutti! 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 Grazie a tutti!